Dicono che sia quasi impossibile riuscire a premere lo spazio tra il cuore e il segui. Provaci e se ci riesci fammelo sapere nei commenti. Dicono che sia quasi impossibile riuscire a premere lo spazio tra il cuore e il segui. Provaci e se ci riesci fammelo sapere nei commenti. Dicono che sia quasi impossibile riuscire a premere lo spazio tra il cuore e il segui. Provaci e se ci riesci fammelo sapere nei commenti. Dicono che sia quasi impossibile riuscire a premere lo spazio tra il cuore e il segui. Provaci e se ci riesci fammelo sapere nei commenti. Dicono che sia quasi impossibile riuscire a premere lo spazio tra il cuore e il segui. Provaci e se ci riesci fammelo sapere nei commenti. Provaci e se ci riesci fammelo sapere nei commenti. Dicono che sia quasi impossibile riuscire a premere lo spazio tra il cuore e il segui. Provaci e se ci riesci fammelo sapere nei commenti. Dicono che sia quasi impossibile riuscire a premere lo spazio tra il cuore e il segui. Provaci e se ci riesci fammelo sapere nei commenti. Dicono che sia quasi impossibile riuscire a premere lo spazio tra il cuore e il segui. Provaci e se ci riesci fammelo sapere nei commenti. Dicono cheości fiumi sapere nei commenti. Dicono che sia quasi impossibile riuscire a premere lo spazio tra il cuore e il segui. Dicono che sia quasi impossibile riuscire a premere lo spazio tra il cuore e il segui. Grazie a tutti.